Adesso sono in attesa di sapere se il Presidente del Consiglio ritiene di accogliere quella mia richiesta di incontrarlo domani, come e dove ritiene. Per il resto la posizione della città è stata espressa ieri con molta chiarezza e non ci devo francamente ritornare. Napoli sta vivendo una grande pagina di democrazia, di lotta politica fatta in tutte le sedi, nelle assemblee, nelle piazze, nei cortei, nelle scuole, nel comune, nelle municipalità, nelle università. È una bella pagina politica, come tutte le belle pagine politiche mi auguro che continuino a rimanere belle pagine, cioè popolari, forti, essere duri senza mai perdere la tenerezza. Non c'è bisogno della violenza.